Il tragico incidente coinvolge una donna uccidendola e una bambina. Entrambe sono state investite mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali. L'autista probabilmente abbagliato dal sole le ha travolte, scaraventandole da alcune decine di metri di distanza. Le politiche del governo sono fallimentari, ad affermarlo è il professore Michele Boldrini, docente di economia alla Washington University in St. Louis, ricercatore, editorialista e divulgatore scientifico, presente ieri a Cagliari per una conferenza sui temi della divulgazione economica. Carbonia, il servizio mensa del Ciusa rispetta le norme. A dichiararlo nel Tg e il vice sindaco Gianluca Lai, il quale rispondendo alle polemiche scaturite nei giorni scorsi da parte di alcuni genitori e rappresentanti dell'opposizione, ha spiegato le motivazioni per cui ai giovani studenti è stato offerto un pasto freddo. Secondo Lai, presto saranno risolte le criticità della struttura e la mensa tornerà a distribuire pasti caldi. Lai ha chiesto il concordato in bianco, la richiesta degli avvocati dell'Associazione di Assistenza agli Spastici è stata presentata ieri durante l'udienza del Tribunale di Cagliari. Al concordato dovrà far seguito un piano di ristrutturazione dell'Associazione, contrarie CGL Cisewil, atta in vista la giunta regionale. Ben ritrovati su Canale 40, lo avete sentito dai nostri titoli di apertura, un tragico incidente successo questa mattina a Iglesias. Una donna 67enne è deceduta in questo gravissimo incidente stradale. La donna è stata investita insieme alla nipotina sulle strisce pedonali da un SUV. L'autista probabilmente abbagliato dal sole le ha travolte scaraventandole ad alcune decine di metri di distanza. Nonostante i soccorsi e i tentativi di trasferirle in elisoccorso all'ospedale Brozu di Cagliari non c'è stato nulla da fare. La piccola invece non verserebbe in gravi condizioni. Il servizio di Carlo Martinelli. Sono state travolte mentre si recavano come ogni mattina a scuola. E' successo questa mattina intorno agli 8 e 15 sulla via Pacinoti a Iglesias davanti alle scuole elementari. Una donna e una bambina che si recavano a scuola mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali sono state investite da un SUV. L'autista probabilmente abbagliato dal sole le ha travolte scaraventandole ad alcune decine di metri di distanza. Immediati soccorsi da parte del personale del 118 che hanno trasportato la donna e la bambina al CTO. Le condizioni della donna a 67 anni di Iglesias in particolare sono apparse subito gravi tanto che ne è stato disposto il trasporto con l'elisoccorso all'ospedale Brozzo di Cagliari. Purtroppo i sanitari non hanno potuto far niente per salvarla. La donna è deceduta nell'elicottero della Reus che non è neppure decollato mentre tentavano di strapparla alla morte. Migliori le condizioni della piccola nipotina che da quanto si apprende non dovrebbe aver riportato lesioni molto gravi attualmente seguita nell'ospedale CTO. Una disgrazia immane che probabilmente si sarebbe potuta evitare se fossero messe in atto le buone pratiche per una circolazione sicura e responsabile nelle strade, in particolare in prossimità delle scuole. La strada, teatro del grave incidente di oggi, non è nuova a fatti di cronaca come questo. E questa mattina, secondo alcuni testimoni, non era presente neppure il vigilo urbano che solitamente regola il traffico alle entrate e all'uscita degli scolari dalla scuola. Sono in corso gli accertamenti con l'acquisizione delle testimonianze da parte della polizia locale e dei carabinieri di Iglesias. L'autista si è fermato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. La sua auto è stata ovviamente posta sotto sequestro. Per il comandante del distaccamento dei vigili del fuoco di Iglesias, Antonio Carrogu, sarebbe opportuno installare i dissuasori in prossimità degli ingressi nelle scuole, soprattutto in strade ad alta percorrenza, come appunto la via Pacinotti. Una strada che molti automobilisti, a tutte le ore del giorno e della notte, hanno scambiato per una pista da corsa. Voltiamo pagina. Ieri sera il professor Michele Boldrin, docente di Economia alla Washington University in St. Louis, ricercatore, editorialista e divulgatore scientifico, era presente a Cagliari per una conferenza sui temi della divulgazione economica. Lo abbiamo raggiunto e intervistato su alcuni punti caldi inerenti il governo del Paese e le prospettive economiche della Sardegna. In questo servizio vi proponiamo un piccolo stralcio dell'intervista che trasmetteremo invece integralmente dopo questa edizione, dopo l'edizione del Tg delle 14.30 e questa sera alle 21.00. Manolo Murendu. Professor Boldrin, la convince questo nuovo governo? Beh, no, ma questo è chiaro. Non mi sembra molto diverso dal precedente. L'abbiamo detto con altri amici fin dall'inizio. Mi sembra fondamentalmente seguire le stesse teorie economiche e cioè che non c'è nessun problema strutturale, basta spendere, espandere e regalare soldi a destra e a manca ai propri gruppi di elettori per uscire dai problemi che abbiamo, ha preso un atteggiamento più saggio, più furbo, sia con l'Unione Europea che invece di insultarla continuamente, cerca almeno di vedere se si ricava qualcosa e vende meno la favola, secondo cui i migranti sono la causa di tutti i nostri mali. Però d'altra parte nemmeno fa delle cose serie per risolvere i problemi, i drammi umani che ne vengono. Quindi mi sembra coerente con quello che purtroppo l'80% degli italiani pensano, sono stati indotti a pensare, e cioè che non ci sia nulla di radicale da cambiare la maniera in cui viviamo e lavoriamo, ma che sia solo una questione di fare un po' più di debito pubblico e ovviamente per noi, per ognuno di noi e non per gli altri. Dopo le aspre polemiche divampate ieri sulla presunta ineguatezza del servizio Mensa alla scuola primaria Ciusa di Carbonia, oggi arriva la risposta dell'amministrazione comunale tramite il vice sindaco Gianluca Lai. Sentiamo. Negli ultimi giorni ha fatto discutere molto una polemica assorta tra alcuni genitori degli studenti che frequentano la scuola primaria Ciusa di Carbonia e anche dalle polemiche sollevate da un consigliere comunale d'opposizione. Il tutto in riferimento al servizio di Mensa che non sarebbe partito all'interno di quella scuola nel modo più adeguato, nel modo più appropriato. Queste polemiche Gianluca Lai, vice sindaco della città, sono state indirizzate al servizio di Mensa che praticamente per problemi di inagibilità di alcuni locali non è partito così come negli altri scuole e in particolare le polemiche si sono incentrate sulla qualità del pasto che in alternativa a quello caldo è stato offerto ai ragazzi. Allora sulla qualità non voglio entrare nel merito perché comunque c'è un capitolato d'appalto che pervede determinate forniture e quindi quello è che sia un pasto caldo che sia un pasto freddo e quindi su questo diciamo non entri nel merito. Che è stato rispettato? Ma che è stato rispettato ritengo quindi c'è un ufficio pubblica istruzione che deve poi fare queste verifiche e ritengo che sia stato rispettato. Per quanto riguarda l'agibilità dei locali il perché noi comunque abbiamo sempre mantenuto il servizio Mensa siamo passati con un pasto freddo ma è una questione di pochi giorni apposta comunque per dare questo servizio e non per tagliarlo e rinviare di una settimana si sono nell'ambito delle valutazioni che si fanno regolarmente sulle scuole quindi su eventuali problemi di tipo statico si sono rilevati dei punti in cui bisognerà intervenire quindi quello che ha le Mensa dove non c'è stato alcun crollo questo bisogna chiarirlo perché poi dopo le notizie false sono quelle che poi creano problemi con la città e con i cittadini. Notizie che sono state diffuse nei social? Ma sì, ma notizie mi chiedo basate su quali fonti cioè quali sono state le fonti che hanno detto appunto che lì ci sono stati dei crolli si stanno facendo dei lavori su alcuni muri laterali ma in realtà sui soffitti della Mensa non è stato fatto nulla non ci sono dei crolli non ci sono stati dei crolli si dovrà intervenire si sta fidando alla progettazione per fare poi appunto degli interventi di messa in sicurezza. Nel frattempo abbiamo individuato d'intesa con la dirigente della scuola un altro locale lo si sta adeguando per quelle che sono le prescrizioni ASL quindi riteniamo che manca pochissimo appunto a riattivare il servizio a messa con i pasti caldi come dal contratto. La vicenda Aias in apertura di questa seconda parte si apre un nuovo capitolo ieri gli avvocati dell'associazione hanno infatti chiesto il concordato in bianco al Tribunale di Cagliari riunito nell'udienza che avrebbe dovuto decidere sulla richiesta di falimento inoltrata nei giorni scorsi dal PM Daniele Caria vediamo quindi i dettagli in questo servizio. Ieri mattina si è consumato un nuovo capitolo della vicenda Aias stavolta giudiziario è arrivato dopo quello andato in scena all'ure discorso nel consiglio regionale con l'approvazione della mozione della quale i consiglieri all'unanimità avevano chiesto all'assessore alla sanità Niedu di adoperarsi per individuare soluzioni utili al superamento della convenzione tra l'associazione e la regione. Nell'udienza tenuta a Sighieri di fronte al giudice fallimentare del Tribunale di Cagliari Andrea Bernardino fissata dopo la richiesta di falimento inoltrata dal PM Daniele Caria è arrivata la richiesta da parte degli avvocati dell'Aias di poter usufruire di un concordato in bianco per poter attuare un piano di ristrutturazione aziendale allo scopo di dare continuità ai servizi di assistenza erogati a oltre 3.000 pazienti e nel contempo per arrivare a una risoluzione delle problematiche inerenti ritardato pagamento degli stipendi per i propri dipendenti Non è dato sapere per ora in che modo questo piano di ristrutturazione sarà eventualmente attuato ma sul merito l'associazione della famiglia Randazzo ha dichiarato di voler fare chiarezza molto presto quando i consulenti avranno analizzato dettagliatamente la documentazione contabile anche se dalle prime valutazioni effettuate sia l'avvocato Massimo Bottari che l'advisor Gianluca Timpone hanno dichiarato che ci sarebbero tutte le condizioni sia per ottenere il via libera per il concordato che per attuare un piano di ristrutturazione in grado di centrare gli obiettivi prefissati Di altro parere una parte dei lavoratori e dei relativi rappresentanti sindacali in particolare di CGL e CISLEGUIL i quali hanno chiesto un incontro urgente all'assessore Niedu per capire meglio quali saranno i prossimi passi e soprattutto le intenzioni della Giunta dopo il voto espresso lunedì scorso in consiglio regionale per il superamento della convenzione tra Aias e Regione secondo diversi sindacalisti l'unica via percorribile per risolvere definitivamente la situazione sarà quella di un commissariamento di Aias e la conseguente messa in sicurezza retributiva e lavorativa di tutti i dipendenti sale l'attesa per quanto riguarda le decisioni che dovrà intraprendere l'assessore alla sanità che in ogni caso non potranno prescindere dall'epilogo della vicenda giudiziaria e dell'accoglimento o meno della richiesta di concordato e finché non ci sarà chiarezza su questo punto c'è da esserne certi non sarà facile per la Giunta regionale sbilanciarsi sul futuro dell'associazione Il presidente della massima assemblea regionale Michele Paes ha espresso forte solidarietà al popolo catalano dopo le condanne cominate ai suoi leader politico-istituzionali a diverse decine di anni di carcere da parte di un tribunale spagnolo vediamo Il presidente del consiglio regionale della Sardegna Michele Paes ha espresso forte solidarietà al popolo catalano dopo la notizia giunta negli ultimi giorni sulla condanna dei principali leader indipendentisti già membri del governo e parlamento della Catalogna a decine di anni di carcere per il reato di sedizione La volontà di autodeterminazione di un popolo ha dichiarato Paes non deve mai essere messa in discussione Le condanne decise dal tribunale supremo spagnolo seppure ineccepibili dal punto di vista normativo comprimono in maniera incisiva i principi democratici su cui si deve basare la pacifica convivenza tra i popoli L'esponente istituzionale ha anche ricordato il forte vincolo di amicizia esistente tra il popolo catalano e quello sardo Già nella scorsa legislatura infatti il 25 ottobre 2017 il consiglio regionale aveva approvato un ordine del giorno nel quale auspicava l'immediata scarcerazione di coloro che erano stati sottoposti a misure di privazione della libertà personale in seguito alla consultazione referendaria che chiedeva l'indipendenza dello Stato catalano Adesso l'attesa è per la decisione del Tribunale Europeo dei Diritti Umani di Strasburgo che dovrà esprimersi sulla drammatica vicenda si spera in tempi rapidi Domani sera a 17 ottobre si terrà presso il ristorante Tannite di Carboni a una riunione di tutti gli aderenti all'associazione Livit L'inizio è previsto per le 14 in prima convocazione alle 15.30 in seconda All'ordine del giorno verranno dibattuti diversi punti tra i quali la programmazione delle attività annuali 2019-2020 e le comunicazioni del Presidente sulla eventuale modifica della denominazione e dello scopo dell'associazione Vediamo qualche appuntamento in apertura di questa terza ed ultima parte del TG40 la quarta edizione del Festival del Disegno di Fabriano fa tappa a Bacquavis nella nuova biblioteca comunale sita in piazza Santa Barbara venerdì 18 ottobre dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17 con un laboratorio didattico per bambini dei 6 anni in su ragazzi e adulti intitolato Dipingiamo con Matisse si tratta di un viaggio alla scoperta del cut out la tecnica utilizzata proprio da Henry Matisse pittore, incisore, illustratore e scultore francese L'evento è organizzato dall'associazione culturale LOP-LOP in collaborazione con il sistema bibliotecario interurbano del Sulcis e il comune di Carbonia Durante il percorso particolare attenzione sarà data ad una caratteristica tipica delle opere realizzata in età avanzata ovvero l'utilizzo delle forbici da qui cut out Matisse quando divenne anziano infatti abbandono il pennello e dipinse con le forbici da domani giovedì 17 fino a domenica 20 ottobre a Carbonia si celebrerà la festa patronale di Gesù Divino Operai organizzata dalla parrocchia di Via Mazzini guidata da Don Giampaolo Cincotti la festa patronale intitolata la parrocchia e il ministero dell'accolitato comincerà giovedì 17 ottobre e si protrarrà appunto fino a domenica 20 con tante iniziative non soltanto religiose ma anche civili il principale evento religioso è previsto per domenica 20 alle 17 quando verrà celebrata la Santa Messa preseduta dal Vescovo della Diocesi di Iglesias Monsignor Giovanni Paolo Zedda venerdì 18 ottobre verrà presentato a Carbonia il libro Palabanda la rivolta del 1812 fatti e protagonisti di un movimento che ha scosso la Sardegna dell'autore Andrea Pubusa l'evento che prenderà il via alle 18 presso la biblioteca comunale di Viale Arsia è organizzato nell'ambito della rassegna Carbonia scrive a supportare l'autore nella presentazione del volume ci sarà il giornalista Sandro Mantega con questa notizia è tutto io vi ringrazio per averci seguito per aver scelto l'informazione di Canale 40 vi do appuntamento alle prossime edizioni come di consueto vi lascio adesso con il meteo è Noas in Corso il nostro telegiornale in lingua sarda arrivederci acusate Autore dei sorrisi